Amici Juventini di The Planet, il solito video da Paolo Bruschi dalla Sansepolcro. Vorrei parlare degli infortuni della Juve, che sono parecchi. Secondo me qualcuno ci ha fatto le malie a Napoli, visto i tanti infortuni che abbiamo avuto in questo periodo. Ora, purtroppo dobbiamo andare avanti, riboccarsi le maniche e andare a battere l'Atalanta una partita durissima. Speriamo bene, perché è una partita molto difficile, come quelli del Genoa, e dobbiamo correre. Siamo veramente messi male in difesa, con la difesa quasi tutta il titolare fuori. Speriamo bene, io la vedo molto dura con l'Atalanta, ma io spero di vincere. Ci risenteremo dopo la partita con l'Atalanta, sperando di essere felici. Un saluto da Paolo Bruschi da Sansepolcro. Grazie. 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 Grazie.